Non so, non so. Ritorno. 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 Marco un contratto di fornimento. Il gos si avvicina rapidamente Gli alleati caduti possono rischierarsi finché rimanete inviti Guadagnate punti per farli tornare prima Fate piazza pulita dei bersagli C'è poco tempo andate alla meta Vedo il nemico Prendete quella corazza Ecco il venditore Signor Adena Prendete quella corazza Potete prendere quella roba Under fire I quali non finiscono mai i colpi Provate una strada Take me down Under fire Prendiamo quella roba Prendiamo quella roba Centro Può tornare in azione Contatto con ferimato Contatto con ferimato Under fire Under fire Contatto confermato Diamoci da fare Può tornare in azione Cassa di scorte in campo Prelevare Quando rilevasare Per rilevare Per àsso Kind Sosa ha diventato Tres 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 C'è un soldato nemico! Faccio di equipaggiamento per voi! Siete in venticinque! Vedo il nemico! Alla nuova zona sicura! Passi in arrivo! Indico la zona aperta! Come non detto! Dacco il tiratore! Sì! 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 Contratto stracciato! È finita! Membro della squadra in rientro! C'è un pozzo! C'è un pozzo che fanno? Verdi! Que cazzo! GAS IN MOVIMENTO Un tuo alleato è appena rientrato Potete prendere quella roba Contratto confermato, diamoci da male Tazza di scorte in campo, prelevare Bombardamento di precisione nemico Un soltato nemico Un soltato nemico Ritorni il campo! Forza! Va e vendicati! I rinforzi sono in arrivo! Vedo il bersaglio! E' da confermare! Occhi aperti! La finestra di ritorno sta per chiudersi! Laggi terminati! Prezzi tornati alla normalità! Contratto stracciato! E' finita! E' gas via quasi addosso! Membro della squadra in rientro! We've got to get to the safe zone! Un tuo alleato è appena rientrato! Punto di raduno stabilito! Un tratto sciacallo marcato! Contro della squadra in rientro! Come non si! We've got to get to the safe zone! UAV in salvolo! Niente più ritorno! Niente secondi occasioni! Gas in arrivo! C'è una nuova zona sicura! Andiamo laggiù! Adesso sei negli ultimi dietri! Indicolo la zona bersaglio! Indicolo la zona bersaglio! Autonomia UAV esaurita! Indicolo la zona bersaglio! Contatto! Confermo bersaglio ostile! C'è poco tempo! Andate alla meta! Obiettivo contratto marcato! Soldato! Ci rimani soltanto tu! Sopravvivi per far rientrare gli altri Buovine amico attivo Mark target for airstrike Qui Phoenix 3, attacco in corso Gas in movimento Bombardamento fallito Contratto completato, pagamento autorizzato We gotta get to the safe zone Quote Unexplash Pienso 75 Prends Am grassroots E sc parasito naming Gassi in avvicinamento, nuova zona sicura. Qui ci vuole un brindisi. Gassi in avvicinamento, nuova zona sicura. Gassi in avvicinamento, nuova zona sicura.